I bagni pubblici di Bassano del Grappa hanno bisogno di un serio intervento. Basta dare un'occhiata alle immagini raccolte dal PD bassanese fra Piazzale Cadorna, Parco Ragazzi del 99 e Via Marinali per capire che la situazione non è certo all'altezza delle aspettative e delle necessità di una città come Bassano. Il tema è di grande attualità, soprattutto a causa delle limitazioni che stiamo vivendo e in vista di una stagione turistica estiva. Numerose sono le segnalazioni arrivate alla politica cittadina e anche a noi di Rete Veneta nel corso degli ultimi mesi. Segnalazioni che riguardano bagni sporchi e dalla scarsa accessibilità. Il PD chiede all'amministrazione di Elena Pavan di aumentare i turni di pulizia e di tenere lontano dalla portata degli utenti i prodotti che servirebbero per le pulizie degli ambienti.